La gronda va fatta, deve andare avanti e quindi il ministro Toninelli deve capirlo. Credo che ieri ci sia stata una forte reazione non solo a livello territoriale, ma anche il nostro gruppo alla Camera e nonché il vicepremier Salvini ha ribadito che per noi è un'opera essenziale, quindi se questo governo vuole andare avanti deve dire dei sì e non solo dei no. Dire che blocchiamo tutto in attesa di un processo che non sappiamo quando si concluderà e con che esito, mi sembra l'ennesimo schiaffo a Genova che ha già subito il crollo del Ponte Morandi, non possono i genovesi subire anche ulteriori ritardi, non solo la gronda, magari vederla addirittura non farla, sappiamo che noi abbiamo pagato per anni i pedaggi proprio per finanziare quell'opera, quindi sarebbe anche un ulteriore regalo ad Aspi.